E' caduta la coroncina? Sì, la principessa. Sai la cresta del... Il carrello del supermercato. Certo, ho dei regali per Gemma. Tu qui, Gianni, dove lo posizioniamo? Maria, che faici? Lo metto al centro? No. A centro ci sarà la seduta di lei. E però qui ci sono le mummie. Aspetta allora. C'è il vestito. Ma la mummia è quella piccolina, no? No, tutte e due. C'è la grande e la piccola. Le porto subito adesso, così mi tolgo il pensiero. Oddio. Ma che ha preso? C'è qualcuno che mi apre la tenda, per favore? Eppure. Ecco, arrivo, eh. Ah, ecco. Questa è la grande. Questa ha la frase giusta. Lascia stare. Ma non puoi. Lascia stare. Cosa c'è? Perché tanto le ruote... Però scusami, dove li prendi? Perché io vorrei capire anche dove riesci a prendere. Non ti posso prendere. Ma è un perizoma, cos'è? Tutto me. Maria, Maria ti prego. Ecco, non svelare niente, perché sono per lei. Ma di che materiale è? Guarda che colore è brasiliano. Il materiale è plastificato. Questo per chi non ce l'ha, metti questo e giri. Ci vuol andare anche in spiaggia. Sì, perché sotto hanno una tinta pella. Sì, è. Sai che facevo anche fatica a capire qual era il davanti. Certo, Maria, per quelle che non hanno il c***o, ti metti questo e vai al mare. Grazie. 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 Grazie.